Saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor Allora in questo video andremo avanti con la ricerca di Ciri E andremo a parlare con il Barone Sanguinario al suo castello Chi va là? Sono un Witcher? Si vede Voglio parlare con lui E voglio parlare con la bella Queen Seril Voi visto questo uomo prima? Enid the Crossroads? Tu eri qui non fa tanto tempo Pensi che tu eri dovessi andare il tuo modo separato Bello e tutto Mi ha portato a me qui Devo parlare con il Barone Oh sì? Cosa? 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 Che brutto eto ci da il Barone E' un pazzo furioso questo E' un pazzo furioso questo No, inoltre, hai un altro chiesto Guarda questo, non stai ancora per te Fermo io se vuoi, dai Andiamo male, va, non è forse contento Adesso vi mangio, porca broia No, grazie No, grazie No, grazie Barone sanguinato Arnefice di Blavite Un bel posticcino, dai Swamps, bogs, marshes everywhere Exactly Someone loses their way around here, it becomes damn hard to find What are you getting at? Many have lost loved ones here Some their wives, others their daughters Get to the point already Siri Siri, that's why you've come, isn't it? So she was here She showed up some time ago Exhausted, wounded And stinking like a soaked hound after a hard hunt Later I learned she'd come from the swamp Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village She's a little bit Cresciuta, eh? Ma c'è solo una spada Ah no, la due Una dietro e una alla cinque Ah, devi fare Siri Perfetto Perfetto C'è anche i lupi Eh ma non è forte come Geralt però Qua c'è l'ultra velocità, eh? Scazzuta Mi piace, mi piace Siri Mi piace, mi piace Siri Ciao a tutti Ciao a tutti Sì 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 Ma anche solo un po' Sì 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 La bambina è qui Cosa ci si è? Questo? Ha Non è niente Come si si è iniziata qui? Mi ha dato il padre Mi ha detto di follow the trail of treats Ah, sono volendo la paluda. E te l'ho venduta le strelle solo perchè ha rotto una jarra. Non pensi a te. Ma il padre ha detto che non ci sia bene. Abbiamo troppi molte pelle per farlo, comunque. Passiamoci al traleo di tratti. Questo sarebbe una cosa. Tu e il tuo padre. Quando lasciavi a casa? Questa mattina. E l'anno scorso ha calciato il tuo viso o il tuo occhio? Ha calciato il mio occhio. Quindi dovremmo andare all'estero. Voi, vadovi a casa. E ho spiegato ai tuoi parenti che non devono perdere i loro figli. Non possiamo andare a casa. Perché del lupo e del suo brano. Che roba è? Questi hanno uno. E hai vistolo? Sì. Non ho detto. Non. Da dietro un pezzo. Era enorme. Con gli occhi grandi e grandi fanghe. E era terribilmente verificio. Vedi quello che ho nella mia vita. I uomini lo sorgono. I king lo sorgono anche. Vieni. Io ti aiutare. Vieni. 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 Inoltre a tutti e al prossimo video. Grazie.